Sono partiti i lavori sull'argine sud Val Vibrata per un importo di 50.000 euro, un intervento importante per il territorio dalla regione. Sì, questo è un intervento che è stato appaltato appunto dalla regione e va a protezione dell'argine sud del torrente Vibrata per evitare appunto la tracimazione delle acque in caso di alluvioni. Io a riguardo vorrei ringraziare il genio civile di Teramo, i tecnici tutti, in particolare l'ingegner Catitti e l'ingegner Cioci che hanno preso a cuore il nostro territorio e a distanza di un anno che proprio in questi giorni compie appunto un anno dell'ultima alluvione che c'è stato ha sistemato già diversi punti dell'argine che insiste sul territorio albense, come la contrada ha sistemato l'argine lì in contrada Molino e oggi sta sistemando l'argine sud a ridosso della Bambinopoli.